Benvenuti a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con l'episodio, penso, finale per questa stagione dei nostri gamberetti, signori miei. Prima di partire col video e vedere come finisce questa avventura, scusatemi, sta a salire la caponata, e io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, i link li trovate in descrizione, e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, anche in descrizione trovate il link per poterle fare tramite la funzione Paypal. Detto questo, partiamo con il video. Signori, questa è la classifica, il Morecambe è primo a 97 punti dopo 42 giornate, Portsmouth secondo a 91 punti dopo 41 partite, al City terzo a 86 punti dopo 39 giornate. Quindi diciamo che c'è un po' di divario fra le partite giocate e i punti, però ce la possiamo combattere. Noi oggi abbiamo le ultime quattro partite da giocare, giocheremo contro Swindon, Dons, Oxford e Portsmouth, quindi proprio l'ultima partita sarà lo scontro diretto tra prima e secondo posto, penso e spero. Detto questo, signori me, non perdiamo tempo, facciamo gli allenamenti, facciamo gli allenamenti, vediamo di allenare, attaccanti, perfetto, i difensori, alleniamo i difensori che è parecchio e non li alleniamo, alleniamoli, dai così, non è salito nessuno, si sono allenati tutti abbastanza brutti, si sono sentiti messi da parte, signori, si sono sentiti messi da parte, quindi nessuno si è voluto allenare con criterio, ma tutti in maniera brutta. Le secondo giovani talenti disponibili, ora lo andiamo a leggere, allora, andiamo a leggere la mail dei giovani che sono disponibili, da dove? Dal Camerun, Musan Ponsa, 74,94, questa è tanta roba, portalo a casa, raga, 15 anni, portalo a casa, Osmane Kuruma, dai che questo è l'esterno testo che cerchiamo, raga, dai, portalo a casa, Demai, Karamoko, no, Karamoko non ci piace, poi abbiamo Akoto, 69,94, è un portiere, no, basta portieri, Diagana, 87, no, Lum, 67,93, continuiamo a seguire, la ricerca è terminata, lasciando questo resoconto, Lum mio, Lum mio, sarei un attaccante esterno, mi dispiace, Lum mio, sarà per la prossima, sarà per la prossima, zio. Allora, stiamo pronti contro lo Swinton, la formazione c'è, sì, la formazione c'è, raga, io direi di giocare con loro che sono quelli che ci hanno portato a casa gli ultimi tre punti nello scorso episodio, quindi scendiamo in campo contro lo Swinton, una delle ultime quattro partite, loro vengono da una sconfitta contro il Gillingham, sabato 9 aprile 2022, che ci fanno? Vinciamo 5 a 0, mamma mia, pauroso signori, gol di Casadei, gol di Nicholson, tripletta di Morris, ha munito Harwood, e sono usciti Salazar e Claudio per Vaz e Teco Dudu, e i primi tre punti li abbiamo portati a casa, raga, i primi tre punti li abbiamo portati a casa, andiamo ancora con gli allenamenti, andiamo ancora con gli allenamenti, dai con i terzini, dai con i terzini, sì, 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 va bene, va bene, allena lì, allena lì, Drollos alla 67, il nostro partire è Yadama, sala 63, buono così, buono così, hanno bisogno di tornare più forte di quanto sei adesso, andiamo avanti con le giornate, raga, andiamo avanti con le giornate, abbiamo 6 punti di vantaggio sul Portsmouth che ha una partita in meno, andiamo giocando il Donz che è sesto in classifica, aia, questa sarà, questa è più combattuta, questa è più combattuta, cerchiamo di schierare la formazione migliore, ma è questa la formazione migliore che abbiamo, raga, l'unico cambio che dobbiamo fare è levare Mariani e mettere dentro Ray, Dagan 71, Nicholson, Casadei, Morris, Claudio, Drollos, Harwood, Salazar e Mitchell, perfetto, Watanabe, Watts, Mariani, Hamilton, dove sta Hamilton? Hamilton, ce lo portiamo per, 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 per Cunningham, portiamoci Hamilton per Cunningham così vediamo se entra pure lui e non si arrabbia, non si arrabbia, dai, 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 in casa contro il Donz, raga, seconda partita delle ultime quattro che dobbiamo giocare, terza ultima partita, sabato 16 febbraio 2022, loro vengono da una vittoria contro l'Hackrington, noi che ci famo? Vinciamo 3 a 0, raga, vinciamo 3 a 0, spettacolo, gol di Casadei, che anche lui che balla e ci porta i tre punti, poi Nicholson e Morris, sono usciti il Ray de Claudio per Mariani e Dudu, Buono così, il nostro Teco, si è fatto male di nuovo a Harwood, al 63esimo, Harwood si è fatto di nuovo male, porca miseria, il suo giocatore soffre di infortuni praticamente, il suo giocatore soffre troppo spesso di infortuni, Salazar è contento per le partite che si sta giocando, due giorni per Harwood va bene, quindi è recuperabile, ma la prossima la facciamo giocare ad Hamilton, se no magari si concentra troppo sulla Formula 1 e poi si dimentica come si gioca a calcio, andiamo a fare ancora gli allenamenti, raga, allora io penso che se vinciamo questa, signori miei, se vinciamo questa, siamo primi in classifica, qualificati per la Championship dell'anno prossimo, signori miei, si festeggia, raga, si festeggia, se vinciamo questa partita, raga, si festeggia, si festeggia di brutto, raga, andiamo avanti col calendario, andiamo avanti col calendario, spero che Portsmouth ce lo portino a pari, anche perché l'ultima partita la giochiamo con loro, no, non ci portano a pari il Portsmouth, Sullivan vuole giocare, ok, Sullivan mio, ti faccio giocare, allora, leviamo Harwood e facciamo giocare Hamilton, se no si dimentica come si gioca, leviamo Casadei e giochiamo con Sullivan, leviamo Mitchell e facciamo giocare Watanabe, leviamo Claudio e facciamo giocare Dudu, dai, Dudu, diamo una chance a Dudu, dai, da titolare, mi serve per l'anno prossimo, Dudu, raga, mi serve comunque un cambio di attacchi importanti, anche perché, dico, l'anno prossimo dovremo anche iniziare a puntare sulle coppe, sulle coppe, ragazzi miei, ci penserò, Sullivan, ti ho messo titolare, non ti preoccupare, Sullivan mio, contro l'Oxford, signori miei, contro l'Oxford, vediamo che c'è fama contro l'Oxford, sabato 23 aprile 2022, loro vengono a un pareggio contro l'Hipstitch Town, noi che c'è famo? Ci vinciamo 3-0, raga, siamo in Championship, siamo in Championship, raga, promozione raggiunta da primi in classifica, non l'avrei mai detta a inizio stagione, raga, la squadra doveva crescere, la squadra doveva crescere, ma siamo arrivati primi in classifica, gol di Watanabe, Amponsa e Morris, ammonito drollo e sono usciti il raid per Dudu, per Claudio e Casadei, mamma mia, signori miei, 3-1, pulito pulito, spettacolo, spettacolo, Sullivan ci ringrazia, Sullivan ci ringrazia, andiamoci a giocare l'ultima partita contro il Portsmouth, signori miei, siamo in Championship, signori, siamo in Championship, obiettivo raggiunto, obiettivo raggiunto, andiamo ad allenare gli attaccanti che si sono ripresi, obiettivo raggiunto, signori miei, obiettivo raggiunto, Naka diventa un 72, Canningham diventa un 58, dai Canningham mio, mamma mia, quanto ci stai a crescere, zio, quanto ci stai a crescere, raga, obiettivo raggiunto, 106 punti in 44 partite giocate, il Portsmouth del secondo a 45 partite giocate, scusatemi, il Portsmouth del secondo a 44 partite giocate con 100 punti, raga, oramai anche se dovessimo perdere queste, oddio, se le perdiamo tutte e due, eh, potremmo andare a pari punti con il col Portsmouth, quindi non è detto, quindi dobbiamo schierare i nostri migliori, raga, io volevo fare un po' di passerella a tutti, ma dobbiamo schierare i nostri migliori, signori miei, perché non si scherza, perché il Portsmouth con due partite da recuperare può fregarci il primo posto in classifica, vabbè che oramai dico, non cambia più niente, primo e secondo mi interessa relativamente l'importante di avere evitato i playoff, però arrivare secondi dopo un cammino del genere mi darebbe un po' fastidio, allora signori miei, ultima partita del campionato, Morecambe e Portsmouth, sabato 30 aprile 2022, loro vengono da una vittoria per 4-1 contro l'Hackrington, noi che ci fanno? Ci vinciamo 1-0, raga, questa è l'apoteosi, signori, abbiamo battuto il Portsmouth, non una squadretta tanto per, abbiamo battuto il Portsmouth 1-0, gol di Morris, è successo di tutto, si è fatto male il drollo, che è uscito insieme a Raid per Watanabe e Mariani e Watanabe si è fatto buttare pure fuori dal 75esimo e loro non sono riusciti a pareggiare, raga, abbiamo mantenuto il vantaggio, mamma che è campionato, a pensare che l'anno prossimo saremo in Championship e perderemo in maniera pesante la maggior parte delle partite, quest'anno è spettacolare, spettacolare, 6 mail signori miei, 6 mail, andiamo a leggere tutte queste mail, il secondo ha vinto premi allenatore, grande, è il secondo che vinciamo raga, è il secondo, la Rebecca dal cognome impronunciabile, ci porta il trofeo, aggiornamento dell'osservatore, andiamo a vedere gli osservatori, raga, Hans Anderson, 74-94, lui è interessante, lo teniamo lì, Nistrom, 68-94, anche tu sei abbastanza interessante, teniamo lì, Oscar Ericsson, 67-93, è interessante, Lucas Martenson, 47-65, sei l'unico che fa schifo, quindi continuiamo a seguire loro più da vicino, poi abbiamo Morris, 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 che è dalla Spagna e ci porta, Pablo Nunoz, che è inguardabile, via, Javier González, interessante, lo teniamo lì, David Ibanez, interessante, lo teniamo lì, Pablo Vázquez, interessante, lo teniamo lì, Mariano García, no, stiamo sotto il 90, Oscar Cortese, 68-92, lo teniamo pure lì, lo teniamo a osservare, raga, ora questi dobbiamo un attimino iniziarceli a studiare bene, se è infortunato, drollo, se è infortunato per sei settimane, va bene, giocatore squalificato, Watanabe, ok, non fa nulla, ragazzuoli, facciamo l'ultimo allenamento della stagione e alleniamo i centrocampisti, vediamo di farlo salire un pochetto di più, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, noi ci vediamo nel prossimo video che concluderemo la stagione e inizieremo quella nuova, inizieremo direttamente quella nuova e stop ragazzuoli!